Buongiorno, benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming per questo convegno che è l'ultimo per questo quadriennio organizzato dalla Commissione Condominio e Locazioni. Qui avverto proprio l'esigenza di ringraziare tutti coloro che sempre ci hanno seguito nel corso dei vari convegni che abbiamo organizzato, in gran numero devo dire e il ringraziamento lo devo estendere soprattutto a tutti i membri della Commissione e ai relatori che si sono succeduti perché senza di loro non avremmo potuto organizzare questi eventi. Siamo al termine della consigliatura del quadriennio, ecco perché questo è l'ultimo convegno non solo di quest'anno ma anche di questa consigliatura. Come sapete dal 16 al 20 gennaio si terranno le elezioni in questa Aula dalle ore 30 alle 14 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, quindi in bocca al lupo a tutti i candidati. Speriamo di essere qui anche per la prossima consigliatura per continuare il lavoro con questa Commissione che io ho il piacere di aver creato nel 2006 e quindi vorrei che continuasse su questa priva, anzi addirittura migliorasse le sue prestazioni. Ricordo ancora che al 31 dicembre scade il termine per l'acquisizione dei crediti formativi che per quest'anno sono previsti ancora applicandosi in regime d'emergenza della pandemia Covid-19 nella misura di 15 crediti di cui almeno 3 in materia deontologica. Avverto che per il 2022 non è prevista la compensazione con i crediti eventualmente acquisiti in eccesso negli anni precedenti, a differenza invece che per il 2020 e il 2021. Detto questo, immediatamente vado a presentare i relatori che ringrazio per la loro presenza, l'Avvocato Michele Baldacci, componente della Commissione Condominio e Locazioni, l'Avvocato Corrado Sabellico, l'Avvocato Eleonora Di Palma, l'Avvocato Samantha Soricone, tutti componenti della Commissione Condominio e Locazioni e poi abbiamo il Consigliere dell'Ordine, l'Avvocato Maria Agnino, responsabile anche della mediazione, della nostra mediazione forense e era previsto in locandina che il Consigliere Paolo Voltaggio concludesse questo convegno. Però siccome fra poco Paolo è impegnato in un altro convegno, gli darei immediatamente la parola per un breve scenno di saluto, così poi diamo inizio ai lavori del convegno. Prego Paolo. Grazie infinite, anche da parte mia, un saluto a tutte le colleghe e i colleghi e mi devo unire ai complimenti che ha fatto il Consigliere Nesta alla Commissione Condominio e Locazioni, che io, devo essere sincero, frequento, ma frequento poco perché sono molto impegnato nella Commissione del Tributario e delle esecuzioni immobiliari, però come tutte le commissioni, soprattutto quella di Condominio e Locazioni, è una commissione molto attiva e come dico sempre anche nelle mie commissioni, le cose belle che funzionano camminano soltanto con le gambe degli uomini, quindi grazie all'impegno di tutti i membri uomini, intendevo dire uomini e donne. Siamo caduti ormai nel fratelli e sorelle, uomini e donne, avete sentito che ho salutato colleghe e colleghi, quindi uomini e donne, soprattutto delle donne, direi. Quindi faccio i complimenti della Commissione e i complimenti doppi al Consigliere Nesta, perché come responsabile del Centro Studi parlava dell'obbligo formativo, devo dire che il nostro ordine sta mettendo in atto quasi un overdose di eventi formativi, perché ce ne sono anche più di uno nel corso dello stesso orario, quindi i colleghi che vogliono formarsi, anche al di là dell'obbligo, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Il tema che affrontiamo oggi, io starò il più possibile, perché è un tema che ci riguarda doppiamente come condomini, prima di tutto perché tutti noi, prima di essere avvocati, a meno che non abbiamo una bella villa, siamo condomini e sappiamo quali problemi abbiamo, per esempio la reazione che farà la collega Di Palma sulle responsabilità del mestiere per le soluzioni dei lavori straordinari, la mia esperienza sul Superbonus è stata drammatica, volevo spaccare il mondo, quindi è qualcosa che interessa sicuramente a tutti noi e poi ci interessa anche e soprattutto come avvocati, perché tanti di noi nell'ambito del diritto civile si occupano di questa materia, quindi io ringrazio i redatori, ringrazio la Commissione, sarò il più possibile proprio perché partecipo ai convegni, soprattutto per imparare, perché gli esami non finiscono mai. Grazie, grazie al consigliere Voltaccio, quando vuoi, ci fa piacere, ma quando vuoi ti puoi allontanare. Allora, proprio in relazione alla tematica del convegno, problematiche condominali, iniziamo con la prima problematica, le assemblee telematiche. Prego Michele, avvocato Michele Baldacci. Allora, salve a tutti, grazie al consiglio dell'ordine, a questa commissione, ai consiglieri presenti che hanno organizzato questo convegno. Non mi dilungo, vado direttamente al sodo, assemblee telematiche, ovvero un incubo. Allora, come organizzare l'argomento? In principio era il codice civile, il codice civile che nelle disposizioni d'attuazione ci dava e ci dà ancora, ringraziando Dio, tutta una serie di indicazioni su come devono essere convocate le assemblee, su come devono essere svolte e così via. Basterebbe già tenersi a quello e molte delle impugnazioni probabilmente non avrebbero motivo di esistere. Poi, come tutti sappiamo, è arrivato il Covid, che è stata una tragedia per tantissimi motivi. Ha avuto forse l'unico pregio di stimolare l'utilizzo delle tecnologie anche in campi nei quali prima non si riusciva a sviluppare queste modalità di esecuzione. E poi vedremo tutte le modifiche che sono intervenute, quello che è successo in questo lungo periodo. E quindi arriviamo ad oggi che esiste la possibilità di svolgere le assemblee condominali in via telematica con dei paletti, con una serie di indicazioni, perché all'interno della normativa di cui parlavamo prima, quindi dell'articolo 66, nello specifico delle disposizioni di adottazione del Codice Civile, sono state introdotte delle modifiche che andremo a vedere nel dettaglio. Cominciamo dall'inizio. Allora, il vecchio articolo 66, al terzo comma, ci diceva che l'avviso di convocazione per le assemblee condominali deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la donanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata per questa elettronica certificata, fax o con consegna a mano, si intende con firma di ricezione, deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa tardiva o completa convocazione degli eventi di ritto, le deliberazioni assembleari annullabili, ai sensi del 1137 del Codice Civile, su istanza dei distanzienti o degli assenti perché non ritualmente convocati. Disposizione sufficientemente chiara, andiamo soltanto a, e soprattutto sufficientemente nota, però andiamo a puntualizzare alcuni aspetti che meritano attenzione anche per quello che si dirà dopo. Innanzitutto l'assemblea deve essere convocata e la convocazione è un atto unilaterale recettizio, il che vuol dire che deve pervenire a destinazione, quindi deve essere nella sfera di conoscibilità del destinatario, entro i termini che abbiamo detto prima, quindi i cinque giorni. Però se noi lo dobbiamo mandare con raccomandata, non sempre, ovviamente, il destinatario lo conosce il giorno stesso in cui arriva, perché magari era assente, perché magari non è stato possibile il ritiro immediato della raccomandata e quindi viene lasciato dal postino, dall'ufficiale postale, viene lasciata la comunicazione che è arrivata una raccomandata e che sarà disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal detali a partire dal giorno X, solitamente il giorno successivo, a volte però capita che ci sono sabati, domeniche, feste o chissà che altro e per cui possono essere anche dei giorni in più. Quindi i cinque giorni che noi dobbiamo considerare per la convocazione, oltre a essere su espresso dato normativo, cinque giorni dalla data di prima convocazione, perché tutti sappiamo che in realtà noi quando arriva una convocazione guardiamo subito quando è la seconda convocazione perché è quella che usualmente si utilizza per svolgere le assemblee per tutta una questione di quorum costitutivi e deliberativi ben noti. In realtà però alcuni amministratori commettono l'errore di inviare la raccomandata o la convocazione facendo conto dei cinque giorni sulla seconda data, quindi sulla data della seconda convocazione e questo è un errore. L'altro errore che viene commesso è che si considerano i cinque giorni molto stretti, perché appunto se la raccomandata non è ritirabile alla posta il giorno stesso, non basta che sia stato lasciato l'avviso entro i cinque giorni, ma deve essere possibile per il dissenatario ritirarla, il che vuol dire che probabilmente un amministratore scaltro dovrebbe considerare qualche giorno in più. Ovviamente questo se fosse invece una convocazione a mezzo PEC, che la norma abbiamo visto espressamente consente, agevolerebbe molto. L'avviso di convocazione abbiamo detto deve essere in forma scritta, l'onere della prova della convocazione deve essere fornita dall'amministratore o da colui che convoca l'assemblea stessa, il luogo della convocazione è assolutamente indifferente, parliamo della normativa precedente al Covid, è assolutamente indifferente purché sia all'interno del comune nel quale sorge l'edificio condominiale, lo stabile condominiale. L'ordine del giorno deve essere dettagliato e ben specifico, così che tutti possano sapere di che cosa si parlerà. Ora, poi è arrivato il Covid e con il Covid noi abbiamo avuto provvedimenti che ci hanno messo così dire in lockdown, quindi siamo stati tutti chiusi dentro casa, molte riunioni non erano possibili, ma per le assemblee condominali in realtà, contrariamente a quello che spesso si dice in giro, i provvedimenti normativi non hanno vietato, a parte il lockdown ovviamente tutti a casa punto, ma non hanno vietato lo svolgimento delle assemblee condominali, ci sono stati i provvedimenti che hanno derogato ai termini per la presentazione del bilancio, ci sono termini derogati per l'adeguamento energetico, ma lo svolgimento dell'assemblea non è stato vietato. Riporto nelle slide che poi avrete a disposizione, riporto delle fonti del governo, in cui per esempio il primo giugno si chiedeva possono svolgersi assemblee ordinari o straordinari condominali di società, di capitali, di persone o di altre organizzazioni collettive? La risposta del governo era le assemblee di qualunque tipo condominale societario, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in presenza fisica dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, sappiamo tutti, la mascherina, il metodo di distanza e così via. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibili con le specifiche normative vigenti in materia di convocazione e deliberazioni, questo perché? Perché nell'ambito societario già esisteva la norma che ci consentiva l'assemblea telematica, in ambito condominale no e quindi non si poteva fare. Sulla base di risposte di questo tipo, qualche associazione di categoria già ipotizzava di fare riunioni su Zoom o chissà che altro, ma valevano o non valevano? Presumibilmente non valevano perché erano difformi dalla normativa vigente. Ancora, a ottobre, il 20 ottobre 2020, è uscita una circolare del gabinetto del Ministero degli Interni, quindi stavamo a giugno, si può fare tutto, a ottobre viene detto le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione, quindi si possono fare in presenza, se la normativa lo consente lo possiamo fare da remoto, quindi in presenza era possibile. Ancora, DPCM 14 gennaio 2021, ricorderete tutti quanti le differenziazioni zona gialla, zona arancione, zona rossa? Bene, in tutti e tre i casi, giallo, arancione o rosso, giallo rosso soprattutto lo dico alla collega Agnino, c'è scritto, è fortemente consigliato, è possibile, la domanda era scusate, è consentito svolgere assemblee condominali in presenza? La risposta è sì, è fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza, laddove ciò non sia possibile per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale, uso dei dispositivi di protezione individuale. Quindi il DPCM del 14 gennaio 2021 continua a dirci che si possono fare in presenza, per cui non è vero, come molti amministratori dicono, che non si potevano fare le assemblee. Poi ci sono altri problemi di carattere pratico, trovare il luogo idoneo perché un condominio con tanti soggetti poi evidentemente doveva avere uno spazio tale da consentire il metro di distanza che poi anche lì, se ricorderete, c'erano tanti calcoli su come vedere questo metro perché da una sete all'altra era in verticale, in diagonale, in orizzontale, c'erano percorsi molto particolari, però diciamo che di base in presenza era sempre possibile. Allora vediamo quali sono i provvedimenti normativi che hanno inciso perché abbiamo detto che a giugno non c'era nulla, a ottobre del 2020, scusate, ad agosto del 2020, il 14 agosto del 2020 è uscito un decreto legge del 104 che ancora non parlava della possibilità dell'assemblea da remoto. In sede di conversione, quindi che con la legge 126 del 13 agosto del 2020 è stata introdotta la possibilità dell'assemblea da remoto. Sono state aggiunte delle indicazioni nel terzo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione e poi è stato aggiunto un sesto comma, prima ce ne erano solo 5. Nel terzo comma viene aggiunto che la convocazione si può fare, come abbiamo detto prima, o se prevista in modalità di videoconferenza, deve essere indicata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. Quindi si approccia alla possibilità normativa di un'assemblea in videoconferenza. A questo punto mettono il sesto comma e dice anche ove non espressamente previsto del regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Quindi il primo provvedimento sulla materia arriva da questa legge 126 del 2020, quindi in vigore dal 14 ottobre del 2020. Vado avanti perché ci torniamo dopo. Un secondo provvedimento è stata la modifica di quanto avevano appena scritto, perché il decreto legge è del 7 ottobre del 2020, quindi abbiamo avuto un periodo di interregno praticamente tra la normativa che recepiva il decreto legge di agosto e il decreto legge appunto del 7 ottobre del 2020, poi convertito con modificazioni il 4 dicembre 2020, in cui la dicitura che abbiamo sentito prima, quindi in caso di assenza di indicazione di regolamento di condominio, con il consenso di tutti i condomini si può fare l'assemblea in videoconferenza viene sostituito con il consenso della maggioranza dei condomini, perché ovviamente introdurre un'unanimità per la videoconferenza in un periodo in cui era previsto che la videoconferenza dovesse essere la modalità principe proprio per evitare i contatti sociali e così via, evidentemente diventava un controsenso. Peccato che il legislatore ha sbagliato nella formulazione della norma e lo vediamo anche questo tra poco. Ad oggi quindi qual è il testo vigente? Quello che deriva da queste due legge di modifica con tutte le riflessioni che sono state fatte nel frattempo, quindi il testo è quello che abbiamo detto, quindi è prevista la modalità in presenza, ma ai sensi del terzo comma dell'articolo 66 è prevista anche la possibilità dell'assemblea in videoconferenza. E poi quando non c'è la possibilità, quando il regolamento non prevede che sia fattibile l'assemblea in videoconferenza, in realtà basta il consenso della maggioranza dei condomini per accedere a questa modalità. Ora, la prima domanda che sorge è, ma quindi la modalità mista che oggi tanti amministratori promuovono e tanti condomini richiedono, è possibile oppure no? Allora, la risposta è complicata perché se noi guardiamo strettamente il dato normativo, il legislatore ci mette la congiunzione disgiuntiva O, quindi l'avviso di convocazione deve contenere, nel caso di assemblea in presenza, l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, o se prevista in modalità di videoconferenza della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. Alcuni esperti del settore intendono questa O come una disunzione fra l'indicazione del luogo e l'indicazione della piattaforma telematica, altri invece ritengono che o è in modalità in presenza o è in modalità telematica. Personalmente penso che sia superabile la questione perché l'importante è che l'assemblea si possa svolgere, quindi che sia in presenza, che sia mista o che sia in modalità telematica, l'importante è che tutti possano partecipare o siano messi nella condizione di partecipare e di partecipare in modo efficace, quindi benvenga anche l'assemblea mista. Il problema è sulla effettività della partecipazione perché se sono tutti in presenza e ce n'è uno da remoto, spesso avviene, lo vediamo tutti, che quello da remoto sente poco, vede poco, non riesce a seguire i discorsi e così via. Se quelli da remoto sono più di uno è ancora peggio. Quindi tecnicamente la norma è interpretabile come possibile in modalità mista, ma dobbiamo sempre ricordare che la partecipazione deve essere effettiva all'interno di un'assemblea. Se non vengo messa nelle condizioni di partecipare in modo effettivo, sicuramente qualche problema e qualche vizio si potrebbe sollevare. Altra questione, modalità di svolgimento. La modalità, ovviamente adesso parliamo solo di videoconferenza. La modalità è tramite una qualche piattaforma telematica. Infatti come abbiamo visto nella norma si dice, modalità di videoconferenza bisogna indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. Non tutti gli amministratori sono così tecnologicamente evoluti, senza parlare dei condomini ovviamente, perché ognuno poi ha le proprie capacità, le proprie disponibilità, la propria formazione, ma quello è un problema del condomino. L'amministratore che è un professionista, ormai acclarato anche a livello normativo, dovrebbe stare al passo. E molto spesso invece purtroppo capita, un'assemblea di tre giorni fa me lo ha dimostrato, che una volta arrivata in assemblea l'amministratrice ha iniziato a dire va bene, allora con quelli presenti. Gli altri si devono collegare. Dove la facciamo? La facciamo su Zoom? La facciamo su Meet? La facciamo via WhatsApp? Però non lo so fare. chi mi crea la riunione? Poi non si sentiva. Insomma tutta una serie di problematiche che stando al dato normativo sarebbero facilmente risolvibili, perché già nella convocazione ci doveva essere la piattaforma e possibilmente anche il link dal quale puoi accedere alla riunione. Quindi una tirata di orecchie agli amministratori che non lo fanno. Qual è il dato successivo? Che la assemblea, noi sappiamo tutti che viene verbalizzata, c'è il registro dei verbali, e poi questo verbale viene sottoscritto per prassi dal presidente e dal segretario. In realtà però nessuna norma lo prevedeva, invece adesso è previsto che il verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Noi sappiamo che l'amministratore di condominio deve mandare ai condomini assenti il verbale, in modo tale che poi possano partire i termini del 1137, ma non era mai previsto un obbligo di invio a tutti i condomini e non era mai stato specificato quali fossero le modalità dell'invio. Adesso la norma lo dice espressamente, se è in modalità telematica l'amministratore deve mandarlo a tutti e nelle stesse forme della convocazione, quindi raccomandata, PEC, fax, a mano con firma di ricezione, quello che sia. Quali sono le problematiche e vado a chiudere il mio intervento. Se noi facciamo un'assemblea in via telematica dobbiamo avere la possibilità di identificare i nostri interlocutori. Allora, se noi lo facciamo tramite piattaforma, tramite il link ci viene inviato una user ID e una password che vale per tutti, quindi non va a identificare la mia persona, va a identificare la mia possibilità di accedere, ma che sia io ad accedere o che sia qualcun altro, se c'è il link accede lo stesso. Questo si potrebbe risolvere tramite un accesso su delle piattaforme che consentono l'identificazione personale tramite, che ne so, firma digitale, speed o cose di questo tipo. Però è vero anche che laddove io invece sia un delegato del condomino e quindi non abbia una possibilità diretta di partecipare, ma lo devo fare per via mediata, sistemi di questo tipo potrebbero non consentire il mio accesso, se è stata preordinata una lista dei soggetti abilitate a partecipare. Allora, è vero anche però, per semplificarci la vita, che non è che tutte le volte che partecipiamo a un'assemblea condominiale dobbiamo dare documento di identità, dobbiamo fare chissà che altro. Quindi il problema si vorrà se intervengono soggetti estranei e a quel punto l'amministratore o il presidente dell'assemblea chiederà a chi si è connesso chi è e perché sta là in buona sostanza. Noi sappiamo che partecipare ad un'assemblea necessitiamo o di una delega del condomino, di uno o più condomini, vabbè, non entriamo in questa parentesi, oppure siamo soggetti che sono stati invitati a partecipare. E anche qui apriamo il secondo problema. Il garante privacy tante volte ci ha detto che all'assemblea condominiale possono partecipare soltanto i soggetti che ne hanno diritto direttamente oppure che sono stati invitati, perché per una questione di riservatezza dei dati possono non essere autorizzati i soggetti terzi. Il che vuol dire che se io vado come avvocato di una parte e quella parte è presente, la mia presenza deve essere autorizzata. Se viene il tecnico per i lavori di ristrutturazione, deve essere autorizzato dall'assemblea, finito il punto all'ordine del giorno, deve andare via. Ora noi in modalità telematica non sappiamo chi c'è dietro lo schermo, perché noi sappiamo chi c'è davanti, chi la telecamera riprende, ma dietro no. Tutto sommato ce ne faremo una ragione, perché ovviamente non possiamo andare a risolvere questo problema qui. Le modifiche del regolamento, l'abbiamo detto, è interessante, lo dicevamo prima, la modifica della legge che ha convertito il decreto legge, non più il consenso di tutti i condomini, ma il consenso della maggioranza. In realtà il legislatore, dicevo prima, non si esprime così. Il legislatore normalmente dice che si fanno delle delibere e che quelle delibere devono essere assunte a maggioranza, come indicato dall'articolo 1136, poi andiamo a vedere se secondo comma, quinto comma, maggioranza assoluta, due terzi, quattro quinti, possiamo dare tutti i numeri che ci pare. In questo caso il legislatore ha detto con il consenso della maggioranza dei condomini, non sappiamo se quelli intervenuti, non sappiamo se quelli invece totali, non sappiamo se servono i millesimi oppure no, se una maggioranza per test, quindi diciamo che è una cosa molto mista, molto soprattutto aleatoria, diciamola così. Quali sono, e chiudo veramente, i vizi se queste indicazioni non vengono rispettate? Allora per alcune c'è scritto espressamento, hanno l'abilità ai sensi del 1137, quindi tutti i vizi di convocazione ce li giochiamo così. E i vizi di esecuzione, diciamo, dell'Assemblea, dello svolgimento dell'Assemblea, anche in questo caso mi sento di dire che, leggendo anche la sezione Unite del 2021, che tutti i vizi sono di annullabilità tranne casi specifici e questi casi specifici, nella mia modestissima opinione, non rientrano in quelle legate all'Assemblea telematica. Quindi hanno l'abilità su tutto quanto. Grazie. Grazie, grazie all'Avvocato Michele Baldacci, che ha affrontato in modo esaustivo nella sua relazione, tra l'altro rispettando il tempo assegnato, vari profili afferenti alla convocazione dell'Assemblea, rispetto del termine e soprattutto per quanto concerne i provvedimenti normativi che in epoca Covid si sono susseguiti per quanto concerne le assemblee telematiche. Grazie ancora Michele, a questo punto darei immediatamente la parola all'Avvocato Corrado Sabellico, nomina e revoca dell'amministratore. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, sì, nomina e revoca dell'amministratore. La novella ormai ben stagionata del 2012 ridisegna la figura dell'amministratore condominiale, ma la ridisegna radicalmente perché aggiunge una serie di commi nel codice civile che stabiliscono con molta maggiore precisione quelli che sono i presupposti per la nomina dell'amministratore e quelli che sono i presupposti poi per la revoca dell'amministratore. Noi passiamo da una figura di amministratore di condominio quale volontario, quale condomino in pensione, quale faccendiere di quartiere, eccetera. Ha un professionista. Un professionista che ha un binario rigoroso nel quale deve muoversi e soprattutto dal punto di vista gestionale, della gestione economica del condominio e della parte fiscale. Quindi la novella toglie via improvvisati personaggi di buona volontà e dà la stura a studi professionali altamente qualificati. Per fortuna nostra di avvocati questo passaggio è lungo a maturare, per cui abbiamo ancora tantissime cause da fare nei confronti di amministratori incapaci, di amministratori inadempienti, di amministratori che non rientrano nelle prescrizioni di legge, le violano sistematicamente, eccetera. E quindi parlando di questo veniamo a vedere come anche la nomina dell'amministratore è stata modificata in parte rispetto a quello che era la disposizione di legge previgente. Allora noi abbiamo l'articolo 1129, primo comma, che ci dice che la nomina dell'amministratore è obbligatoria quando il condominio è superiore alle otto unità immobiliari. Ovviamente questo è il limite minimo, ma in realtà uno può nominare un amministratore di condominio anche quando le unità immobiliari sono meno di otto. La nomina dell'amministratore, questa era una norma che c'era già precedentemente, deve essere tassativamente, obbligatoriamente fatta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del quorum millesimale. Questo è l'articolo 1136, secondo comma. Dove non ci sia un amministratore, qualunque condomino può fare ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina, oppure lo può fare l'ex amministratore qualora venga revocato, ma non ci siano altre persone alle quali dare le consegne e l'assemblea non abbia quagliato il nominativo del successore. Ovviamente nella pratica avviene sempre che, quasi sempre, che il primo amministratore è insediato dal costruttore o dal venditore, cioè l'originario proprietario del complesso immobiliare, che man mano che vende le prime unità immobiliari, crea il condominio, è arrivato a 7-8, crea il condominio e emette un amministratore magari di sua fiducia per il primo periodo e poi questo personaggio seguirà la disciplina normale dell'avvicendarsi di nomine, revocche, eccetera, se è in accordo con l'assemblea. Quindi la nomina può avvenire quasi sempre da parte del costruttore, dall'originario costruttore del fabbricato. Però l'articolo 66 di disposizione d'attuazione ai codici civili ci dice che l'amministratore può essere, in caso di mancanza, nominato anche dall'autorità giudiziaria, su ricorso anche di un solo condomino. E anche un solo condomino può convocare un'assemblea straordinaria per la nomina di un amministratore dove mancante, ma la nomina dell'amministratore deve essere sempre fatta con i rigori del 1136 secondo Coma, cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del quorum millesimale, i 500 millesimi. E fino a qui è una disciplina più o meno uguale a quella precedente. Invece con la novella noi abbiamo una fase successiva che prima non era normata, che è quella dell'accettazione. L'amministratore deve esprimere la propria accettazione dell'incarico. Nel momento in cui esprime l'accettazione scattano degli obblighi per l'amministratore. Quindi l'assemblea nomina l'amministratore Mario Rossi, però poi deve recepire l'accettazione del Mario Rossi e nel momento in cui accetta l'incarico Mario Rossi inizia ad empiere gli obblighi che la legge gli impone e che prima non erano normati specificamente come adesso. Allora l'amministratore in carica deve precisare i propri dati anagrafici e professionali, con codice fiscale. Se è una società, la sede legale, la denominazione, il personaggio incaricato, insomma il socio incaricato di gestire il condominio, deve indicare i locali dove sono tenuti i registri contabili, l'anagrafe condominiale. E cosa nuova, che prima non minimamente denunciata, appena di nullità della nomina, appena di nullità della nomina, l'amministratore deve esprimere dettagliatamente il proprio tariffario professionale. Cioè non è più lasciato così a un accordo indefinito. L'amministratore prende quanto quello precedente, l'amministratore prende quanto l'anno scorso. Ad ogni nomina di amministratore deve essere ripresentato il proprio tariffario, ma analitico. Questo è un forte vincolo per l'amministratore, perché non potrà mai chiedere compensi qualora non espressi nella propria offerta di collaborazione con il condominio. Per cui le assemblee straordinarie, i lavori straordinari, gli accessi ai pubblici uffici, se non specificamente quantificati i tariffari nella propria offerta, non danno poi il diritto a pretendere il relativo emolumento. Questa è una novità di grossa portata, perché l'amministratore di condominio precedente, che tutti ricordiamo, personaggio a dir poco scabroso, misterioso, oscuro, ostile, poi insomma tramestava nella contabilità in una maniera e in un'altra, perché non si sapeva quanto prendeva, a che titolo, se il compenso era con l'IVA, senza IVA, poi uscivano fuori le ritenute da conto, pagate, insomma tutta una serie di problematiche per le quali il nuovo legislatore ha stabilito tassativamente la pena della nullità, qualora non venissero ad impiute. Per cui quando ci troviamo davanti la nomina di un amministratore o dobbiamo avversare la nomina di un amministratore, la prima cosa da fare è quella di vedere la domanda che ha fatto e il tariffario che ha presentato, se l'ha presentato. I requisiti per essere amministratore, perché non più chiunque può fare l'amministratore, come era in passato. I requisiti sono quelli che stabilisce l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Allora, godimento di diritti politici e chiaramente il compimento del diciottesimo anno d'età, la mancanza di sentenze di condanna contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, condanne contro la fede pubblica, reati contro il patrimonio, l'amministratore non deve essere revo di delitti non colposi, con pena minima da due anni e massima da cinque. Poi l'elenco, l'amministratore non deve essere sottoposto a misure di prevenzione definitive salvo riabilitazione, quindi ce n'è da lavorare, non deve essere protestato. Ecco, questa è una cosa esplicitamente stabilita. Prima nessuno si poneva le domande su chi fosse l'amministratore, cosa facesse, godeva la fiducia di qualcuno nel quartiere, veniva nominato, poi succedevano cose inenarrabili. Deve avere il diploma di scuola superiore di secondo grado, sembra una vietà oggi, ma non lo è stato fino a poco tempo fa, quindi deve essere minimamente istruito. Deve fare la formazione iniziale, cioè deve trovare un'associazione, qualcosa che gli faccia la formazione iniziale, cioè che gli dia in un certo senso l'abilitazione a fare l'amministratore, cioè non basta il praticone, non basta nemmeno a stretto senso il ragioniere professionista, il commercialista, l'avvocato professionista. Cioè bisogna essere proprio dentro la materia condominiale, questo è una delle innovazioni forti della novella. Cioè chiunque si occupa di condominio e gestisce un condominio, oltre all'istruzione minima nel 2000, cioè la scuola superiore, deve essere proprio infarinato di condominio, anche se ha titoli professionali elevati in altri settori. E questo sia come formazione, ma anche come aggiornamento periodico, come aggiornamento professionale. Cioè così come noi avvocati facciamo l'aggiornamento professionale nella nostra materia, nel nostro settore legale, così anche chi fa l'amministratore, anche se avvocato, anche se commercialista, ogni anno deve fare un corso di aggiornamento obbligatorio in materia condominiale, anche se è un commercialista di chiara fama. Ci sono alcune dero che ci dice l'articolo 71 disposizione d'attuazione, proprio per gestire questa fase transitoria, insomma. Se l'amministratore è un condomino dello stabile, beh allora non è richiesto il diploma e non è richiesta la formazione iniziale periodica, se uno è accettato dalla comunità. Però è sempre obbligatoria la formazione periodica, cioè non è necessaria quella iniziale, ma quella periodica sì. Lo stesso vale per chi è stato amministratore nel triennio primo della riforma. Nel triennio prima della riforma. Non è richiesto il diploma e no la formazione iniziale, ma sempre quella annuale. Quindi queste norme un po' permettono di andare avanti a quelli che già erano amministratori, ma che erano grandi studi di amministrazioni, però non erano centrati su quelli che sono i punti focali della nuova disciplina. Altra novità che prima non era minimamente ventilata. L'Assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza professionale, RC professionale. Perché? Perché ormai nelle amministrazioni di condominio circolano anche elevati movimenti finanziari. Per cui un amministratore che combina degli illeciti, combina dei problemi, eccetera, deve essere sempre garantito da una polizza professionale. Non è obbligatorio, non è tassativo, ma la novella dice che l'Assemblea può subordinare la nomina alla presentazione di una polizza professionale. La novella, parlando di polizza, dice comunque che nel caso di lavori straordinari di elevata entità, l'amministratore deve adeguare la propria polizza professionale o deve dotarsi di una polizza professionale specificamente volta a garantire quel tipo di operazione in quel condominio. Quindi adesso che ci sono i 110, le facciate al 90, eccetera, che il giro economico è elevatissimo per la portata magari di una persona, di un professionista, non siamo mica tutti come Paolo, cioè gente come noi, 6-700 milioni ci rovinano. E' Paolo Onesta. E' Paolo Onesta, ovviamente, c'è gente, devo Paolo Onesta, certo, è chiaro. C'è gente come noi, 6-700 mila euro ci rovinano e quindi ci vuole una polizza professionale adeguata e questo lo dice la novella. Poi c'è la perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti, perdendo uno di questi requisiti si ritorna con il gioco del luogo all'inizio, al punto di partenza. Perdi dei requisiti un amministratore, l'assemblea può essere convocata immediatamente anche da un solo condomino perché non ci può essere una latenza, un avacazio di questo ruolo. Per cui decaduto un amministratore per uno dei problemi che ho detto prima, condanne, cose, eccetera, l'assemblea deve immediatamente essere convocata e costituirsi. Lo può convocare anche un solo condomino nell'emergenza, però poi l'amministratore nuovo nominato deve sempre rientrare nel secondo comma 1136 codice civile. Sarò brevissimo sulla durata dell'incarico dell'amministratore perché c'è giurisprudenza contrastante e giurisprudenza di ogni valenza. La formulazione del nuovo codice lascia pensare nella prima fase, c'erano delle forti tendenze a una nomina in automatico perché la formulazione del codice è ambigua, non è chiarissima e quindi poi evito di parlare perché già solo questo meriterebbe un convegno. Però recenti orientamenti giurisprudenziali hanno stabilito che comunque essendo il mandato è comunque con durata annuale perché annuale è il rendiconto, perché annuale è il termine di svolgimento dell'incarico, quindi di rimessa in discussione del rapporto e quindi della conferma della fiducia oppure di una decisione diversa. Di questo parliamo un'altra volta perché sono sentenze in ogni direzione. C'era addirittura un orientamento che diceva che la nomina era sinedie fino a un'eventuale revoca assembleare. Una volta uno nominato all'amministratore non presentava più all'assemblea la propria ricandidatura perché l'assemblea in qualunque tempo avrebbe potuto riunirsi e dire lo revochiamo. Però alla fine non è così l'ultimo orientamento. Parliamo della revoca. Abbiamo tre ipotesi grossomodo di revoca dell'amministratore. Una è quella legata al mandato che in ogni tempo l'assemblea può riunirsi e revocare l'amministratore di condominio. Ovviamente essendo il rapporto con l'amministratore un mandato a titolo oneroso ci deve essere sempre una motivazione in questo. Una motivazione chiaramente che responsabilizzi l'amministratore perché altrimenti l'amministratore avrebbe diritto a un risarcimento perché gli si crea un danno avendo fatto affidamento a quell'incarico, a quelle entrate, a quella prospettiva economica. La prima ipotesi è quella normale. L'assemblea che si riunisce dice basta, non vogliamo più questo amministratore, abbiamo i nostri motivi, li elenca e lo revoca. La seconda ipotesi, e qui ci riavviciniamo allo spirito nuovo della legge che definisce un amministratore molto più professionale ma soprattutto molto più alleato del fisco vorrei dire perché già nel 1997 quando il condominio divenne sostituto d'imposta ci fu un raddrizzamento dell'operato degli amministratori. prima del 1997 le amministrazioni condominali venivano gestite su fogli di carta. Arrivava il fabbro nel condominio, diceva dichiaro di aver preso 100.000 lire per aver saldato la ringhiera. In contanti, quello se li metteva in tasca, l'amministratore magari gliene dava 60, 40 se li teneva come premio di produzione del fabbro e finiva così. E' la figura dell'amministratore che tutti abbiamo odiato, che tutti odiano e tutti ancora ricordano con cosa. Queste contabilità non chiare, foglietti da tutte le parti che andavano da un condominio ad un altro. Era una gestione libera, così come era libero avere tutto sul proprio conto corrente, amministrazione condominiale rossi, c'era due o trecento milioni fissi se la cosa era grande e lui non aveva obbligo di rendicontare niente a nessuno. Invece la seconda ipotesi di revoca è proprio sui punti fiscali, cioè nel momento in cui l'amministratore compie gravi irregolarità fiscali, può essere sollevato, revocato dall'incarico in via giudiziale. Qualunque condomino può fare ricorso all'autorità giudiziale. E questo è un fatto nuovo, insomma, non c'era prima. E quindi, ripeto, è per gravi fatti fiscali e per la mancata apertura del conto corrente condominiale. Fino alla novella non c'era l'obbligo per l'amministratore di avere un conto corrente dedicato al condominio nel quale fare transitare tutte le somme con chiarezza e documentando i contanti qualora si muovesse con somme contanti. L'amministratore, come dicevo prima, aveva il proprio titolo, l'amministrazione condominiale oppure l'amministratore Mario Rossi, e lì conferiva di tutto. E lui poi, basta che faceva il rendiconto ai singoli condominio, alla fine dell'anno restituiva quello che era in avanzo, incassava quello che era in disavanzo, andava tutto bene. Per cui si trovava una disponibilità finanziaria enorme, con la quale poteva investire, fare l'usuraio, fare acquisti a proprio titolo e poi rimettere. Insomma era un guazzabuglio impenetrabile la contabilità condominiale. Invece dal 2012 è motivo di revoca giudiziale, da parte anche di ricorso di un solo condominio, non aver acceso un conto corrente condominiale a nome del condominio e non aver fatto transitare lì tutte le somme in entrata e in uscita, di modo che siano visibili e verificabili in ogni momento. Poi c'è la terza ipotesi, che è quella del ricorso all'autorità giudiziaria da parte di un condominio, ma dopo l'inerzia dell'Assemblea. Questo nel caso in cui l'amministratore non faccia il rendiconto annuale entro i 180 giorni. E questa è un'altra delle novità che inserisce la novella del 2012. Cioè il rendiconto della gestione condominiale deve essere fatta tassativamente entro 180 giorni dal termine del periodo gestionale. Ormai non si può revocare un amministratore che non presenta due anni consecutivamente uno dietro l'altro, qualora l'Assemblea non trovasse delle giustificazioni valide. Ma il disordine che c'era prima di contabilità ripresentate due o tre anni insieme perché l'amministratore ha da fare, ha avuto dei problemi di famiglia, succede questo, succede quello, non è più tollerabile, non è più ammissibile. Dopo il 180esimo giorno di inerzia dell'amministratore, il condomino può chiedere la convocazione di un'Assemblea su questo tema e in caso di inerzia a dire l'autorità giudiziaria per la revoca. Altro punto è l'omissione della notizia dell'Assemblea della notifica di una citazione in giudizio per un contenzioso che abbia un contenuto esorbitante delle attribuzioni dell'amministratore. Anche questo è stato specificato, prima questa norma non c'era e adesso è motivo di revoca dell'amministratore qualora abbia omesso questo procedimento giudiziario in corso. Come avviene la revoca dell'amministratore? Avviene in Camera di Consiglio, ma con il contraddittorio del ricorrente e con il contraddittorio anche dell'amministratore di condominio. Il decreto della Camera di Consiglio, come tutti sappiamo, è reclamabile entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione e il condomino che ha promosso questa azione e ha avuto il provvedimento favorevole può ripetere le spese sostenute nei confronti del condomino e il condomino a sua volta a titolo per rivalersi nei confronti dell'amministratore che per qualche motivo è stato inadempiente, inaffidabile, eccetera. Poi dopo la revoca c'è la cessazione dell'incarico e quando è giudiziale c'è il divieto di nuova nomina da parte dell'Assemblea, per cui una volta decretato che l'amministratore viene revocato non può essere più rinominato. E poi, scusa, questo potrebbe essere un argomento di un altro convegno, se per un anno o poi può rientrare, perché spesso, come tutti sappiamo, questi movimenti di nomine, revoca, eccetera, sono frutto di alleanze all'interno dei condomini, sottili giochi di potere, strategie carbonare, per cui alla fine magari un amministratore viene esautorato, però in realtà era una persona bravissima, splendida, non è riuscita a difendersi e poi l'Assemblea lo rivolrebbe. Altri casi di gravi irregolarità non tassative che permettono il ricorso del singolo senza l'Assemblea sono l'omessa convocazione dell'Assemblea per il rinriconto nei 180 giorni, l'abbiamo visto, il reiterato rifiuto di convocare l'Assemblea per la revoca del nuovo amministratore, la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari, amministrativi e le delibere dell'Assemblea, quindi censura diretta, poi la mancata apertura dell'utilizzazione del conto corrente condominiale, transito di somme e gestione secondo le modalità che possono generare confusione tra il patrimonio del condominio, quello personale dell'amministratore o altri condominio, cosa che prima veniva di prassi, diciamo, era proprio un'eccezione. Io ho conosciuto un amministratore che in sede di separazione giudiziale con la moglie ha passato i guai veri, perché quello ha detto il conto corrente intestato tra me e mio marito o non so che cosa, la metà è la mia. Quello dice no, ma è l'attività condominiale. No, dimostra, ma quello è andato in tribunale con tutte le mazzette, non c'è stato verso. Sì, la revoca è quella di acconsentire, sì, la revoca anche per aver acconsentito per un credito insoddisfatto la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari e tutela del condominio, cioè la cancellazione di un'ipoteca, per esempio, a seguito di un decreto ingiuntivo, l'omissione di azioni di recupero di crediti e l'omissione di azioni esecutive per il recupero dei crediti, perché la novella stabilisce anche che l'amministratore decorso il semestre dall'approvazione assembleare della contabilità ha il diritto di recuperare le morosità condominiali. Quindi l'omissione di questo è fonte di revoca. Poi l'inottemperanza, revoca anche per l'inottemperanza gli obblighi di tenere l'anagrafe condominiale, dove dentro ci sono, cosa che prima non era un obbligo, bastava indicare approssimativamente chi era il condomino, mettere le convocazioni in buca. Invece adesso c'è proprio l'obbligo di tenere l'anagrafe condominiale con i diritti reali o personali di godimento, il codice fiscale, residenza, domicilio, catasto, eccetera. Poi l'ho messo in completa comunicazione al momento della nomina dei propri dati, tenuta di registri verbali delle assemblee. Prima non era specificato che occorreva tenere la continuità dei registri assembleari con le delibere per iscritto. Adesso c'è l'obbligo ottenuto delle delibere e fornitura, vabbè, poi la mancata fornitura della liberatoria in caso del condomino chieda lo stato di pagamenti, delle cause, eccetera, la mancata formazione professionale e la mancata aggiornamento periodico. Queste sono alcune delle ipotesi tassative. Non mi voglio dilungare di più perché tolgo tempo ai colleghi, però ecco, queste le novità e quanto prescrive la novella su la revoca e nomina dell'amministratore. Grazie. Grazie, grazie l'Avvocato Corrado Sabellico. È indubbiamente pacifico che ormai la vecchia figura dell'amministratore praticone, come chiamava il collega Sabellico, non esiste più, ma è bene che sia così perché sono tante le responsabilità dell'amministratore al tempo d'oggi, sotto profilo civile, anche fiscale, come è stato evidenziato. Quindi occorre una professionalità adeguata. Tu prima dicevi il praticone, ma io mi ricordo pure gli amministratori che fuggivano con il malloppo, insomma, accumulavano. Vabbè, però diciamo che è un pochino più difficile perché si presume che la professionalità poi porti anche a un comportamento, determini anche a un comportamento corretto, insomma, ecco questo sicuramente. Grazie ancora. E allora, prima hanno parlato due appartenenti al genere maschile, ora, siccome noi rispettiamo la parità di genere, anzi, sono prevalenti diciamo le colleghe anche nei precedenti convegni, forse non ci avrete fatto caso, però c'è sempre stata una partecipazione femminile che addirittura è stata qualche volta anche maggioritaria. Quindi do con piacere la parola all'avvocato Eleonora Di Palma che tratterà proprio a proposito di responsabilità dell'amministratore la responsabilità che riguarda l'esecuzione dei lavori straordinari. Prego Eleonora. Prego. Grazie al consigliere Nesta. Allora, il mio intervento sulla responsabilità dell'amministratore in ambito di lavori straordinari ha ovviamente una particolare rilevanza forse in questo momento storico dato la normativa diciamo sulle bonus fiscali che sono stati emanati negli ultimi anni e quindi che ha ovviamente comportato un'accelerazione di quelle che erano le opere e i vili che sono state commissionate. Quando parliamo di responsabilità dell'amministratore dobbiamo ovviamente fare riferimento intanzitutto al decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza nei cantieri in quanto l'amministratore del condominio essendo rappresentante del condominio committente ovviamente va ad avere delle responsabilità. Il decreto legislativo 81 definisce infatti il committente il soggetto per conto del quale viene realizzata l'opera definisce poi il responsabile dei lavori il soggetto incaricato alla progettazione ovvero al controllo dell'esecuzione dell'opera da eseguirsi. Dunque la figura del responsabile dei lavori è obbligatoria per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza nei cantieri e nel caso in cui il committente badiamo bene non incarichi un soggetto per svolgere tali ruoli di responsabilità questo compito e le responsabilità che vi sono connesse andranno a rigatere in capo in pratica al committente e nell'ambito del condominio in capo al rappresentante del condominio dunque all'amministratore. Da qui nasce la responsabilità dell'amministratore del condominio nell'ambito dell'esecuzione dei lavori un ruolo di responsabilità che a mio avviso viene assunto dall'amministratore spesso o nella totale incoscienza di quelli che sono gli oneri da un punto di vista tecnici anche di responsabilità civili e penali che va ad assumere oppure con una vena forse di avarizia ma comunque viene allettato dai compensi che sono estremamente generosi per questo ruolo chiunque di noi ha letto i capitolati per quanto riguarda il super bonus e è stato sotto gli occhi di tutti quelle che sono le percentuali che l'amministratore responsabile dei lavori va a percepire tra l'altro che percepisce senza nessun onere in capo ai condomini perché poi sono oneri che vanno in detrazione ma l'amministratore a mio avviso se non ha una preparazione professionale adeguata e per avere una preparazione professionale adeguata deve essere o un architetto o un ingegnere che abbia poi anche abbia anche un'esperienza professionale maturata in campo dovrebbe assolutamente rifiutarsi di accettare questo incarico di responsabilità pensiamo alla normativa insomma elenca una serie di oneri tra cui quello di designare il professionista che deve redigere il piano della sicurezza e il fascicolo dell'opera deve poi eseguire il controllo sui documenti che vengono redatti da questo professionista e ancora più importante deve verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo a cui viene commissionato a cui viene commissionata l'opera ora la verifica sull'idoneità è assolutamente una responsabilità che comporta ovviamente anche un carico di conoscenze che dubito che un amministratore di condominio abbia e proprio in riferimento alla responsabilità nella scelta della ditta che andrà ad eseguire l'opera voglio citarvi delle sentenze della castazione penale il mio intervento di oggi data il tempo che abbiamo a disposizione ovviamente si focalizzerà sull'esame di alcune pronunce che sono di particolare rilevanza prima tra tutte è questa sentenza castazione penale del 2017 la 43.500 a cui è poi seguita una serie di pronunci assolutamente conformi l'ultima castazione penale 21.072 del 2022 questa sentenza del 2017 rubricata sulla colpa ineliggendo appunto dell'amministratore di condominio la massima ci dice che è possibile configurare una corresponsabilità dell'amministratore di condominio con l'esegutore materiale di opere edili in condominio per danni cagionati dalle stesse in caso di ascrivibilità dell'evento al committente stesso per la cosiddetta colpa ineliggendo ossia per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ed in violazione del decreto legislativo 81.2008 e quindi non abbia compiuto quelle opportune verifiche sui requisiti tecnico-professionali dell'esegutore dei lavori già questa massima dovrebbe far intendere a qualsiasi amministratore di condominio che non è opportuno farsi freggiare di questo ruolo di responsabilità passando all'esame di questa sentenza è interessante ecco perché la sicurezza che vuoi prima ammesso che copra è ammesso che copra però capito che lavori di qualche milione d'euro dubito che poi ci sia una copertura professionale è certo da cosa parte la fattispecie insomma di questo di questa sentenza lavori di impermeabilizzazione del tetto attraverso una guaina che doveva essere installata attraverso una cannello a gas quindi con fiamme libere l'esecutore del lavoro ha incendiato in pratica il piano manzardato ed il tetto di questo condominio cagionando ovviamente una serie di danni anche alle unità immobiliari sottostanti la corte d'appello di Torino ha ovviamente condannato e confermato quindi la responsabilità già accertata in primo grado sia del lavoratore autonomo che si era dell'impresa che aveva eseguito quest'opera ma anche dell'amministratore di condominio responsabili appunto entrambi del delitto di incendio colposo che aveva appunto interessato il piano manzardato ed il tetto di questa palazzina l'amministratore in particolare amministratore del condominio ci dice la sentenza è committente delle opere di impermeabilizzazione era stato era stato addebitato di aver conferito l'incarico senza verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta in violazione del decreto legislativo 81-2008 non avendo acquisito documentazione relativa alla conformità alla normativa antifortunistica delle attrezzature esate e ovviamente anche alla normativa antincendio l'amministratore ricorre in Cassazione e si difende con delle argomentazioni che sono interessanti danno luogo ad uno spunto e secondo me tolgono anche ulteriori dubbi abbiamo detto che l'amministratore propone ricorso e come motivo solleva la questione che aveva già prospettato diciamo in grado di appello della inesistenza di una sua posizione di garanzia sostenendo che al momento in cui si era verificato questo incendio si stavano eseguendo dei lavori commissionatogli dai singoli condomini e non dal condominio per il quale doveva limitarsi la sola posenopera di una malta cementizia cioè l'amministratore dice nel momento in cui questa ditta stava eseguendo i lavori dei condomini autodomamente sono andati da lui e gli hanno commissionato un'ulteriore lavorazione in realtà il mio contratto il contratto insomma siglato da me prevedeva l'applicazione e la posenopera soltanto di una malta cementizia quindi senza l'uso di alcuna fiamma la guaina bituminosa era stata data in carico dai singoli condomini perché erano porzioni di tetto che coprivano le loro unità immobiliari i giudici non hanno ritenuto questa motivazione sufficiente e l'hanno ovviamente confermando le sentenze di primo e secondo grado ritenuto responsabile la conclusione a cui è arrivata la Cassazione è stato che l'amministratore fosse innanzitutto dall'istruttoria fatta dalla CTU e dalle testimoni che erano stati escussi consapevole che la ditta era stata chiamata ad eseguire sia per conto del condominio sia per conto dei singoli condomini opere che richiedevano l'uso di un cannello a fiamma libera GPL e in qualità di amministratore e di committente quindi vedete che la Cassazione ribadisce che l'amministratore è committente su questo sulla coincidenza della carica della figura del committente in capo all'amministratore di condominio in realtà la giurisprudenza soprattutto civile non è sempre univoca perché in realtà in condominio comunque la committenza dovrebbe da un punto di vista civilistico in particolare rimanere in capo ai singoli condomini ai quali in virtù del rapporto del mandato di rappresentanza si vanno a concretizzare gli effetti giuridici di qualsiasi contratto stipulato con l'amministratore comunque la Cassazione penale spesso ritiene che l'amministratore e il committente siano la stessa persona e questo amministratore committente avebbe in pratica omesso di verificare che il soggetto da lui stesso individuato fosse effettivamente dotato della necessaria capacità di realizzare i lavori affidati e munito delle attrezzature idonee la Corte dice inoltre che già questa Corte si è pronunciata nel senso che l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio è tenuto quale committente all'osservanza degli obblighi di verifica delle idonità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice essendo titolare di un obbligo di garanzia quanto alla conservazione e manutenzione dei beni comuni che discende direttamente dall'articolo 1130 del codice civile dunque responsabilità dell'amministratore per colpa ineliggendo nella scelta della ditta incaricata dunque la responsabilità penale che discende da questo tipo di incarichi non dovrebbe essere assolutamente sottovalutata da chi ripeto secondo me in maniera molto superficiale lascia che il suo nome venga indicato come responsabile dei lavori mi avvio diciamo a concludere questo mio breve intervento per portare l'attenzione di chi ci ascolta anche su un altro aspetto cioè la nomina del responsabile dei lavori esonera sì il condominio certamente da una responsabilità ma è una responsabilità limitata a quelli che sono gli oneri della sicurezza non certo fa avvenire meno tutti gli oneri e le responsabilità che discendono in capo al condominio e all'amministratore quale custode del bene oggetto di esecuzione delle opere su questo ci sono Cassazione civile assolutamente pacifica e voglio citarti a tal proposito una pronuncia del 2021 giugno 2021 della Corte di Cassazione la 166.609 questa pronuncia da cosa trae spunto la vicenda è i danni da infiltrazioni che sono stati causati dalla cattiva esecuzione di alcune opere di rifacimento realizzate da un'impresa appaltatrice e da lavori commissionati in questo caso dai singoli condomini la Corte d'Appello ha ritenuto responsabili i committenti quindi questi soggetti ai sensi dell'articolo 2051 quindi responsabilità oggettiva per il bene in custodia ovviamente è stato fatto ricorso da coloro che sono stati ritenuti responsabili tutti i danni da infiltrazione che sono stati cagionati a causa dell'esecuzione dei lavori e il collegio però ha ritenuto ovviamente di non accogliere le motivazioni a sostegno di questi condomini i quali si dipendevano semplicemente dicendo ma noi non abbiamo responsabilità abbiamo conferito in carica una ditta la quale doveva ovviamente eseguire le lavorazioni ovviamente stanno anche attenta a non cagionare danni a terzi il collegio ritiene che secondo il più recente insegnamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile sia sufficiente quindi necessaria affinché vengano eseguiti i lavori equivalga ad una corrispondente trasferimento del ruolo del custode verso i terzi poiché una semina evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte varrà ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere ad incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente custode ecco la Cassazione ci dice committente custode la custodia comunque rimane e d'altronde nell'appalto d'opere siano esse pubblico private il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale vengono eseguite le opere poiché l'iniziativa consistente proprio nel disporre l'esecuzione delle opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso se dunque rispetto all'appaltatore il titolare del bene è di fatto il committente rispetto ai terzi il titolare del bene è il custode da qui la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dell'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto dal patto il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva ex articolo 2051 la quale non può avvenire meno per la conseguenza che l'immobile sia stato consegnato all'appaltatore per l'esecuzione delle opere bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso al caso fortuito e il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 del committente e o dell'appaltatore dunque anche nel caso in cui ci sia l'incarico ad una ditta per l'esecuzione delle opere in condominio e la ditta ovviamente se non provvede il committente normalmente anche la ditta consiglia da un professionista come responsabile dei lavori che tante volte coincide anche col direttore dei lavori ma questo non esonera assolutamente la committenza sia per i condomini privati oppure sia il condominio da una responsabilità verso terzi nell'esecuzione delle opere io avrei concluso il mio intervento grazie grazie veramente per la sua chiarezza espositiva per gli approfondimenti anche di carattere giurisprudenziale sulla colpa ineligento sulla responsabilità penale dell'amministratore quando prima parlavamo di responsabilità dell'amministratore addirittura sfocia anche nel settore penale grazie veramente a questo punto darei immediatamente la parola all'avvocato Samantha Soricone che ci parlerà della prescrizione degli oneri condominiali grazie Paolo buongiorno a tutti prima di entrare nel vivo dell'argomento inizierei con un brevissimo cappello introduttivo sull'istituto della prescrizione e quindi dell'influenza del decorso del tempo sulla estinzione dei diritti soggettivi che come vedremo più avanti nel proseguo della trattazione gioca un ruolo importante anche nell'ambito del diritto condominiale e quindi dell'obbligo del condomino di versare gli oneri condominiali al condominio la prescrizione è un istituto di diritto pubblico voluta è stata voluta dal legislatore per soddisfare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e quindi per ragioni di interesse generale per questo motivo le norme in materia di prescrizione sono inderogabili la norma di riferimento è l'articolo 2936 del codice civile quella di cui parleremo oggi è la cosiddetta prescrizione estintiva in cui il decorso del tempo previsto dalla legge in assenza dell'esercizio del diritto da parte del suo titolare determina appunto l'estinzione del diritto stesso si diversifica dalla cosiddetta estinzione acquisitiva in cui invece l'incidenza del decorso del tempo ha sostanzialmente l'effetto opposto in questo caso l'inerzia del titolare del diritto per il tempo previsto dalla legge comporta o può comportare l'acquisizione del diritto stesso da parte di un soggetto terzo classico esempio l'istituto dell'usucapione c'è poi infine la cosiddetta prescrizione presuntiva che come dice la parola stessa trova il suo fondamento nella presunzione che un certo diritto di credito si sia estinto tale tipo di prescrizione ha una rilevanza più processuale che non sostanziale in essa non è il debitore che è tenuto a provare l'estinzione del diritto quanto piuttosto grava sul creditore l'onere di fornire la prova che la prestazione non è stata adempiuta vincendo così la presunzione che è una presunzione che ammette la prova contraria appunto del mancato adempimento tornando alla prescrizione estintiva che come dicevo prima è quella che più ci interessa e all'obbligo di corrispondere gli oneri condominali da parte del condomino in linea generale possiamo dire che la prescrizione estingue il diritto non l'azione così come ci dice testualmente l'articolo 2934 che proprio in apertura recita ogni diritto si estingue per prescrizione per il tempo previsto dalla legge la prescrizione come sappiamo tutti può essere soggetta a sospensione o a interruzione il primo caso nel caso della sospensione la prescrizione si interrompe in tutti quei casi normativamente previsti nei quali l'inerzia del titolare è per così dire giustificata giustificata dall'esistenza di rapporti giuridici particolari per esempio quello fra coniuge e minore quello fra tutore e minore ad esempio se poi volete l'elenco completo lo troviamo all'articolo 2900 lo trovate all'articolo 2941 del codice civile e proprio perché le ipotesi di sospensione sono tipiche sono tipizzate sono quelle previste dalla legge non hanno alcun rilievo ai fini della sospensione della prescrizione eventuali impedimenti di fatto che il soggetto titolare del diritto rimasto inerte dovesse eccepire l'interruzione della prescrizione invece si verifica in due casi il primo è quando il titolare del diritto compie un atto giudiziale o stragiudiziale che comporta sostanzialmente esercizio del diritto il secondo è quando la controparte riconosce l'esistenza dell'altrui diritto la differenza fra sospensione e interruzione è il diverso ruolo che gioca sostanzialmente l'inerzia perché nel primo caso l'inerzia è sostanzialmente giustificata dalla legge nel secondo caso l'inerzia viene meno per il comportamento o del creditore lo abbiamo visto che esercita il suo diritto oppure del debitore perché riconosce appunto l'esistenza dell'altrui diritto anche gli effetti ovviamente sono totalmente diversi nel senso che la sospensione ha efficacia per tutto il tempo in cui vige la causa giustificativa ma non ha zera per così dire il tempo precedentemente trascorso questo sempre ovviamente ai fini del compito del termine prescrizionale tempo che si va a sommare una volta che la causa diciamo così giustificativa di quell'inerzia viene meno mentre l'evento interruttivo azzera il tempo precedentemente trascorso per cui una volta intervenuta la causa di interruzione la prescrizione ricomincia a decorere ex novo e per un uguale periodo la norma di riferimento questa volta è l'articolo 2945 del codice civile l'aspetto della durata della prescrizione è forse quello che più ci interessa per l'argomento di oggi rispetto ad essa vi sono due tipi di prescrizione la prescrizione ordinaria ovvero la prescrizione decennale che si applica in tutti i casi in cui la legge non stabilisce diversamente quindi un termine prescrizionale diverso e quella straordinaria di durata più breve in genere è quinquennale e che si applica ai rapporti giuridici particolari quali ad esempio quelli in cui oggetto del rapporto è una prestazione di carattere periodico proprio come il pagamento degli oneri condominiali in casi più particolari sono poi previsti prescrizioni ancora più brevi come quelle in materia assicurativa di uno o due anni ma non sto a dilungarmi questo diciamo così è il quadro generale in cui si innesta l'argomento della prescrizione degli oneri condominiali che essendo un diritto di credito che il condominio vanta nei confronti del condominio sono soggetti anch'essi a prescrizione ciò vuol dire che se il diritto di credito vantato dal condominio non viene esercitato dall'amministratore del condominio sostanzialmente quindi dal condominio in persona dell'amministratore nel tempo previsto dalla legge si estingue e quindi viene meno l'obbligo per il condominio di corrispondere agli oneri condominiali gli oneri condominiali si distinguono anche questo lo sappiamo tutti inordinari e straordinari gli oneri ordinari sono quelli che il condominio affronta quotidianamente periodicamente insomma per la gestione corrente e quotidiana dell'ente appunto dell'ente condominiale mentre i secondi sono quelli che il condominio sono spese che il condominio affronta una tantum e quindi sono spese di carattere eccezionale come ad esempio i lavori di rifacimento della facciata condominiale è importante questa distinzione ai fini della prescrizione perché mentre gli oneri ordinari si prescrivono nel termine di cinque anni l'articolo 2948 infatti al punto 4 recita testualmente si prescrivono in cinque anni gli interessi ed in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi gli oneri straordinari invece hanno una prescrizione più lunga che è quella ordinaria decennale per ciò che attiene alla decorrenza del termine prescrizionale sia gli oneri ordinari che quelli straordinari sia per gli oneri straordinari che per quelli ordinari la prescrizione inizia a decorrere da quando viene approvata la delibera di approvazione del bilancio in cui è inserita quella spesa e fate attenzione alla congiunzione e al relativo stato di riparto perché dico questo perché nei rari casi ma accade in cui una delibera si limita ad approvare il bilancio e lo stato di riparto venga approvato soltanto in una delibera successiva è dalla delibera successiva che inizia a decorrere il termine prescrizionale ci si è chiesti al riguardo se sia sufficiente sempre ai fini della decorrenza del termine prescrizionale che l'amministratore ha posti nei bilanci successivi l'amorosità pregressa per esempio di un singolo condomino quindi portando ad un'unica rendicontazione quell'amorosità pregressa e sottoponendola al vaglio dell'assemblea per l'approvazione al riguardo vi cito una recentissima e anche interessante sentenza del tribunale di Messina la numero 578 del 2022 che è stata resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svolto ovviamente dal condomino che il decreto si era visto notificare e in cui il condomino fra le diverse eccezioni eccepisce anche la prescrizione degli oneri condominali il giudice nella parte emotiva della sentenza e nel punto in cui appunto riconferma che la prescrizione inizia a decorrere con la delibera che approva il bilancio e lo stato di riparto testualmente afferma ve lo leggo nulla vieta all'amministratore comunque entro il termine di prescrizione delle spese condominali di convocare l'assemblea per l'approvazione di un nuovo stato di riparto comprensivo di tutte le quote scadute pregresse dovute dai condomini così anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un unico rendiconto che se contestato dal singolo condomino dovrà essere impugnato nei termini di cui all'articolo 1137 del codice civile ora voglio soltanto puntare l'attenzione su un aspetto non è sufficiente appostare quella morosità pregressa nei bilanci successivi è necessario che quei bilanci e i relativi stati di riparto ovviamente vengano approvati diversamente come diceva prima il collega sabellico in ipotesi magari di gestione così un po' negligente del condominio nell'ipotesi in cui sia stata fatta questa attività di appostamento di queste somme ma i bilanci per molto tempo non siano stati approvati e sono passati più di 5 anni si rischia la prescrizione di quelle somme ovviamente come abbiamo visto nella parte introduttiva ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale occorre che vi sia un atto di costituzione in mora in genere una lettera dell'amministratore del condominio che richiede il pagamento degli oneri al condomino sulle caratteristiche che questo atto deve avere oltre ad essere un atto di natura recettizia vi cito anche in questo caso una recentissima sentenza sempre del 2022 che ci dà diciamo così proprio una descrizione di come deve essere o forse anche come non deve essere l'atto di costituzione in mora e ve lo leggo l'atto di costituzione in mora di cui all'articolo 1219 del codice civile idoneo ad integrare un atto interruttivo della prescrizione esensi dell'articolo 2943 ultimo comma del codice civile non è soggetto a rigore di forme all'infuori della scrittura e quindi non richiede l'uso di formule solenni nell'osservanza di particolari adempimenti occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a conoscenza la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto sulla base di tali principi perché un atto possa valere come costituzione in mora deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato quindi l'elemento soggettivo nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato elemento oggettivo qui la particolarità della fattispecie oggetto di questa sentenza è questa in sostanza ed in breve la causa aveva d'oggetto la richiesta di pagamento di onorari da parte di un nostro collega al suo cliente ebbene i giudici di primo e di secondo grado non avevano ritenuto la frase che vi sto per leggere contenuta nella lettera del collega come diciamo così idonea ad interrompere come atto idoneo alla costituzione in mora la frase era la seguente attendo pertanto il pagamento di quanto sopra i giudici di primo e di secondo grado non hanno ritenuto questa diciamo questa frase idonea ad interrompere la prescrizione avendola definita come una semplice sollecitazione priva di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento rivolta ai debitori abbiamo visto che questo non è vero perché la Cassazione non soltanto quella che vi ho citato ma insomma c'è giurisprudenza conforme sul punto richiede formule molto meno sacramentali perché un atto sia idoneo un atto scritto sia idoneo ad interrompere la prescrizione inoltre aggiungiamo ma anche questo probabilmente lo sappiamo tutti che poiché la prescrizione non opera automaticamente il condomino che si vede notificare un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominali dovrà qualora ritenga sussistente l'ipotesi della prescrizione svolgere opposizione ed eccepire l'intervenuta prescrizione perché la prescrizione non opera automaticamente al contrario invece il condomino che ritiene di pagare spontaneamente gli oneri condominali che si ritiene essere prescritti ovviamente non potrà già mai ottenere la restituzione di quelle somme guardando invece al rapporto obbligatorio dal lato attivo e quindi dalla parte del condominio vi voglio solo rammentare brevemente che la norma di cui all'articolo 1129 del codice civile individua fra gli obblighi dell'amministratore proprio quello di attivarsi per il recupero forzoso delle morosità condominali e lo deve fare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è esigibile e questo a corredo con l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione che autorizza l'amministratore a chiedere al giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo senza necessità di preventiva delibera assembleare un caso particolare che vi voglio illustrare sia pur insomma brevemente è quello che riguarda la possibilità per i condomini per il condomino anche il singolo di agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da un'erronea ripartizione degli oneri condominali sul punto ho trovato una sentenza interessante non recentissima però è interessante il caso che vi voglio citare la 4679 del 2009 il caso concreto è quello di una condomina che fa costruire un manufatto sostanzialmente abusivo in sopraelevazione sul suo terrazzo agisce in giudizio una sola condomina contro questa condomina che aveva posto in essere l'opera abusiva sostenendo ritenendo sostanzialmente di dover agire per una duplice voce di danno la prima era il danno derivante dalla inesatta ripartizione degli oneri condominali poiché la ricorrente sosteneva che sostanzialmente la ripartizione degli oneri condominali era errata proprio perché vi era stata una maggior superficie che era stata goduta dalla condomina che aveva posto in essere l'opera abusiva e che però era andata esente sostanzialmente dai relativi oneri l'altra voce di danno era invece il danno da lesione per violazione delle norme edilizie urbanistiche e paesaggistiche perché secondo questa condomina ricorrente il manufatto sostanzialmente era abusivo la parte interessante che qui interessa insomma per l'argomento che stiamo trattando oggi è questa è il punto in cui la corte di cassazione rigetta sostanzialmente l'eccezione di prescrizione che la condomina che aveva posto in essere il manufatto abusivo aveva sollevato sia in primo che in secondo grado sostenendo che era passato sostanzialmente il quinquennio per ottenere il risarcimento del danno e che questo tipo di risarcimento del danno cioè quello da inesatta ripartizione degli oneri condominali soggiaceva comunque al periodo quinquennale e la corte di cassazione però sul punto nel rigettare l'adoglianza fa questa distinzione che è importante ve la leggo la prescrizione può essere maturata solo per gli oneri anteriori di oltre cinque anni alla proposizione dell'azione mentre gli stessi danni hanno continuato a maturare in relazione all'ulteriore erronea ripartizione nei successivi bilanci condominali quindi la parte di danni subiti in epoca antecedente all'azione cade in prescrizione ovviamente sono danni che però visto che la ripartizione fin tanto che la sentenza non passa in giudicato continua ad essere inesatta ovviamente quelli rientrano sostanzialmente cioè continuano a maturare ai fini della prescrizione mentre e qui la distinzione nella corte di cassazione dice che per il danno da lesione per violazione di norme urbanistiche ed edilizie lo stesso per giurisprudenza conforme sul punto è un danno permanente quindi il risarcimento il diritto al risarcimento sorge e può essere esercitato in ogni tempo con l'effetto che il termine prescrizionale decorre di die in diem cioè mano a mano che i danni si realizzano e sul punto poi cita diverse sentenze uniformi sul punto di anni precedenti 2006 e 2007 ultimo argomento e mi accingo a chiudere è quello che riguarda gli oneri dovuti dal conduttore al locatore nell'ambito del rapporto di locazione nel senso che fino adesso abbiamo diciamo così trattato la questione degli oneri dovuti dal condomino proprietario al condominio sono oneri condominiali anche quelli dovuti dal conduttore al locatore normalmente vengono chiamati oneri accessori perché sostanzialmente sono una prestazione accessoria rispetto a quella principale che è quella del pagamento del canone di locazione perché vi cito diciamo così questo particolare rapporto perché fino al 2008 vi era un insomma in maniera anche sorprendente se vogliamo vi era una diversa durata della prescrizione mentre gli oneri cosiddetti accessori cioè quelli che accedevano al contratto di locazione ed erano a carico del conduttore si prescrivevano in due anni gli oneri dovuti dal condomino proprietario nei confronti del condominio come abbiamo visto si prescrivevano e si prescrivono in cinque anni questa disparità di trattamento è venuta meno nel 2008 segnatamente il 22 dicembre del 2008 l'entrata in vigore della legge 133 del 2008 che ha equiparato il termine di prescrizione quinquennale sia per gli oneri dovuti dal condomino proprietario che dal condomino conduttore che dal conduttore chiedo scusa ultimissima questione è invece quella che riguarda la decorrenza del termine prescrizionale sempre nell'ambito di questo rapporto di locazione qui è la stessa Corte di Cassazione che nella sentenza 17.424 del 2003 ci fa una chiara distinzione fra l'ipotesi del locatore unico proprietario di diversi immobili concessi in locazione e quella dei immobili in condominio concessi in locazione a diversi proprietari vi leggo testualmente e qui chiudo nel primo caso la prescrizione decorre dalla chiusura della gestione annuale dei servizi accessori rilevando a tal fine la cadenza con cui tale gestione solitamente si svolge nell'ambito del rapporto di locazione essendo ovviamente un unico locatore la gestione è unica e non dall'approvazione del bilancio di esercizio come invece accade nella seconda ipotesi cioè quella di più immobili in condominio concessi da diversi proprietari credo di essere stata nel tempo qui concludo e vi ringrazio per l'attenzione grazie a te grazie a te Samantha per la tua esposizione hai prima tratteggiato in linea generale l'istituto della prescrizione poi sei entrata più nel dettaglio della prescrizione materia condominiale peraltro con specifici riferimenti giurisprudenziali molto utili credo a chi ci sta ascoltando siamo arrivati all'ultimo relatore finiamo in bellezza il consigliere Maria Agnino che è responsabile della mediazione dell'organismo di mediazione che fa cavo all'ordine di Roma consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e chi meglio di lei ci può parlare della mediazione in materia condominiale prego Maria grazie Paolo grazie a tutti voi di essere venuti qui oggi in consiglio e grazie a tutti coloro i quali sono collegati il mio istinto mi dice di essere leggera perché l'ora è brutta o state mangiando o state in post brandiale quindi cercherò di non annoiarvi particolarmente e soprattutto di tenervi svegli allora partiamo dal presupposto che quasi tutte le relazioni di oggi implicitamente o esplicitamente sono rendono complice partecipe il procedimento di mediazione che sia una mediazione obbligatoria ex articolo 5 28 2010 materia condominiale prevista per legge come condizione di procedibilità prima di presentare la domanda giudiziale o che sia demandata o come piace dire adesso in odore di riforma ordinata dal giudice che manda in mediazione anche quindi i procedimenti per decreto ingiuntivo nella fase di opposizione quando il giudice decide sulla provvisore esecuzione manda in mediazione perché vi dico questo perché di riffo di raffa comunque la giri la mediazione rientra in materia condominiale ovviamente sono diverse le fattispecie sono diversi i modi come ho detto prima per il caso più semplice normalmente i casi più classici sono le impugnazioni di delibera assembleare per cui il condomino dissenziente deposita l'istanza di mediazione con le sue doglianze l'istanza di mediazione viene lavorata dall'organismo le comunicazioni qual è la particolarità e mi ricollego anche con la relazione della collega precedente di Samantha qual è il problema il problema è la decadenza il problema della decadenza dei 30 giorni perché questo termine che ricordo non è soggetto a sospensione feriale e questo è un altro problema che ha solo la mediazione condominiale che fine fa da quando decorre allora c'è stata grandissima indecisione nei primi anni in cui era entrata in vigore la mediazione quindi parlo dal 2010 sicuramente fino al 2013 quando uscì una prima timida sentenza che tra l'altro non parlava neanche di mediazione ma era relativa alle comunicazioni relative alla legge Pinto quindi non c'entrava assolutamente niente comunque è stata ripresa per raccontarci e definirci che i 30 giorni termini di cadenza dei 30 giorni viene interrotto non dal deposito attenzione dell'istanza di mediazione ma dalla sua comunicazione alla parte chiamata in questo caso di cui parliamo la parte chiamata è l'amministratore del condominio quindi la interruzione del termine di decadenza viene inizia decorre dalla comunicazione dall'avvenuta comunicazione della dell'instaurazione del procedimento di mediazione dinanzi a quell'organismo che deve essere ovviamente competente per territorio in questo caso quindi circondario del tribunale dove assiede il condominio questa cosa è molto importante perché ricordo che l'ho già detto prima però sottolineo perché alcune volte ci hanno accusato di essere troppo diligenti quindi stavano piuttosto scocciati alcuni colleghi noi abbiamo due obblighi all'interno dell'organismo di mediazione il primo è quello appunto di comunicare la comunicazione ai chiamati scusate il gioco di parole ma il secondo è di fissare per legge il primo incontro a 30 giorni dal deposito della domanda ora siccome fissiamo la maggior parte delle impugnative condominali arrivano tristemente dopo tutte le approvazioni delle assemblee di luglio noi abbiamo tutto il mese di luglio che è un continuo fiorire di depositi di mediazioni condominali per cui avendo l'obbligo di fissare il primo incontro a 30 giorni dovendo far tutto molto velocemente è chiaro che magari il primo incontro viene fissato il 13 agosto il 18 agosto benissimo senza odiare questi poveri noi mediatori che siamo soggetti alla legge la soluzione che ormai operiamo da tanti anni è quella che normalmente accade che l'amministratore ovviamente l'avvocato o tutte e due chiedono un rinvio congruo del primo incontro quindi noi siamo a posto con la legge tutte le parti soprattutto la parte istante è a posto con la decadenza perché la mediazione è stata iscritta ed è stata comunicata a quel punto normalmente l'amministratore chiede un rinvio a settembre inoltrato in questo caso perché deve ovviamente avere tempo di convocare l'assemblea nella quale assemblea dovrà stare molto attento di scrivere all'ordine del giorno perché alcuni verbali purtroppo che sono necessari in mediazione perché da lì il mediatore trova i poteri e la legittimazione dell'amministratore se molto spesso capita che ci sono delibere monche oppure non chiare cioè non è specificato di solito purtroppo ancora adesso scrivono arrivano verbali di assemblea dove c'è scritto l'assemblea conferisce all'amministratore il potere di andare in mediazione di partecipare alla mediazione ho capito e una volta che l'amministratore partecipa alla mediazione che fa? partecipa si siede l'avvocato dov'è? ricordo che l'assistenza tecnica è obbligatoria quindi serve anche la nomina dell'avvocato a verbale d'assemblea quindi l'amministratore l'ordine del giorno dovrebbe scrivere l'assemblea dovrà decidere sulla pervenuta istanza di mediazione bla 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 con la nomina l'assemblea dovrà decidere cosa fare perché l'assemblea può pure decidere di non partecipare a quel punto l'amministratore non ha problemi l'ha deciso l'assemblea manderà una PEC e comunicherà che non parteciperà all'assemblea perché il verbale è andato negativo invece può succedere che quando l'assemblea dice no dobbiamo andare in mediazione non solo deve dare i poteri all'amministratore i poteri sono i poteri speciali sostanziali cioè l'amministratore deve essere in grado di avere tutti quanti i poteri vuole dargli l'assemblea e contestualmente ai poteri dati all'amministratore è necessaria la nomina dell'avvocato che poi assisterà il condominio in mediazione benissimo questa cosa sembra complicata ma invece tutto sommato è abbastanza facile il problema ecco non siate scomposti se vi arriva una comunicazione con la fissazione al 18 agosto perché non succede niente basta chiedere il rinvio il rinvio viene dato ma non è che viene dato perché siamo buoni viene dato per legge perché attualmente è in attesa dell'entrata in vigore della riforma cartabia si parla di primo luglio 2023 noi adesso siamo regolati per quanto riguarda questo aspetto tecnico diciamo procedimentale della mediazione dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile in particolare tra le altre cose questo articolo prevede che ovviamente per i motivi che ho detto prima l'amministratore non è in grado ovviamente di convocare non c'è bisogno di spiegarlo un'assemblea a fine luglio ad agosto quando gli è arrivata l'istanza di mediazione quindi il mediatore permettetemi di dire in teoria ma anche in pratica anche senza la richiesta dell'amministratore dovrebbe essere tenuto anzi io dico è tenuto a dare come previsto dall'articolo 71 quater un congruo rinvio del primo incontro perché perché se la mediazione che il cui termine di tre mesi è sempre derogabile dalle parti su volontà congiunta ma se la mediazione deve durare tre mesi l'istanza è di luglio agosto settembre ottobre agosto si perde l'assemblea verrà con tutta probabilità andrà bene verso il 20 settembre in poi è ovvio che il mediatore è inutile che fa un rinvio al 3 settembre il mediatore a mio avviso dovrebbe rinviare verso la fine verso i tre mesi perché perché se le parti sono orientate a fare effettivamente la mediazione possono chiedere una proroga dei tre mesi previsti dalla legge per la durata del procedimento ma il mediatore e quindi l'organismo sono obbligati a dare alle parti almeno tre mesi perché in meno di tre mesi la mediazione condominiale per le peculiarità che ho detto prima non può durare per cui in questo momento mi rivolgo a tutti i colleghi che assistono i condomini in mediazione colleghi in generale e mediatori collegati date dovete darlo il rinvio anche se la parte istante dice no non lo voglio non si può fare una perdita di tempo no noi siamo obbligati per legge a rinviare almeno entro i tre mesi anche se rinviamo l'ultimo giorno però si deve rinviare per forza se no la responsabilità della chiusura del procedimento è nostra cioè dell'organismo e del mediatore quindi ricordiamoci che i mediatori si ricordino di rinviare e i colleghi purtroppo si ricordino anche che non è che non è che abbiamo una scelta se accontentare magari un amministratore che chiede un rinvio più lontano non è colpa nostra dobbiamo rispettare i tre mesi se l'amministratore non convoca poi o non riesce a ottenere il quorum per questo è un altro caso frequentissimo alla prima assemblea non raggiunge il quorum quindi chiede un rinvio per convocarne una seconda normalmente la parte istante se è interessata alla mediazione aderisce a questo rinvio che supera i tre mesi evidentemente della durata del procedimento di mediazione ma implicitamente dà un assenso a detto superamento scusate se faccio queste precisazioni ma se no dobbiamo fare una mediazione nella mediazione per uscire anche da questi problemi di date dunque quindi adesso stiamo parlando ancora del regime vigente finisco un attimo finché ci siamo e riprendo un secondo il termine di decadenza quindi se il termine di decadenza questi benedetti 30 giorni che ci sono per depositare l'istanza e poi una volta avuto purtroppo un verbale negativo di mancato accordo di mancanza di presupposti questi 30 giorni ricominciano a decorrere per depositare l'atto di citazione in tribunale quindi non è che se a noi arriva un'istanza al ventinovesimo giorno poi uno si deve scavicollare che c'ha un giorno solo dal deposito del verbale per iscrivere la causa o ruolo quindi questi 30 giorni ricominciano a decorrere dalla data in cui la parte ha ottenuto il verbale negativo la parte o le parti quindi io tendenzialmente la faccio coincidere comunque alla data di chiusura del procedimento di mediazione che comunque è riportata nel verbale affinché tutti stiano tranquilli perché non è che se tu poi chiedi il verbale dieci giorni dopo la colpa può essere dell'organismo la data deve essere a mio avviso coincidente anche perché poi ci sono un po' di responsabilità dilaganti altrove perché vi sto dicendo questo perché la riforma è completamente diversa cioè la riforma ha stravolto quella che è la mediazione condominiale e visto che c'erano tanti problemi soprattutto nell'ambito di questa convocazione assembleare da parte dell'amministratore di condominio che quindi faceva procrastinare il primo incontro e creava anche delle conflittualità maggiori tra l'amministratore del condominio e il condomino che impugnava la delibera ma anche altri condomini perché ci sono delle mediazioni dove ci sono condomini che vengono liberamente così ad assistere alla mediazione che non sanno che complicano la vita ai mediatori però partecipano quindi se può servire a aiutare la mediazione ben venga così magari si rendono pure conto di quelle che sono le problematiche è evidente che sono vincolati alla riservatezza quindi non è che potranno riferire a destra hanno gli stessi identici vincoli che hanno le parti gli avvocati cioè riservatezza e divieto di testimoniare quindi anche lì io faccio sempre la domanda ma vi conviene stare qua se andate in giudizio lo sapete che non potete testimoniare e ogni tanto questi si rendono conto si alzano e fanno mi scusi e se ne vanno via però queste cose bisognerebbe dirglielo tutti i vincoli e la mediazione ha due principi generali la riservatezza e il divieto di testimoniare oltre ai benefici fiscali quindi questa voglia di partecipazione alla mediazione per carità ben venga però ricordiamoci che comporta delle conseguenze sempre sperando che siate svegli vi accenno che la riforma ha novellato due articoli ha aggiunto perché non li ha novellati li ha proprio aggiunti di sana pianta due articoli nel decreto legislativo 28 2010 uno relativo proprio al condominio cioè all'amministratore del condominio e stravolge qualsiasi cosa adesso ve lo leggo perché la portata è secondo me dinamitaria l'amministratore del condominio quindi noi sappiamo che adesso l'amministratore va in mediazione partecipa alla mediazione scrive la mediazione solo se ha l'autorizzazione assembleare ai relativi poteri l'articolo 5 terra del nuovo che verrà 28 2010 ci dice che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione ad aderirvi a parteciparvi è legittimato da solo non gli serve niente il verbale contenente l'accordo di conciliazione quindi noi già stiamo oltre stiamo all'accordo di conciliazione il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore e io aggiungo anche la bozza conciliativa che magari le parti sono riuscite a raggiungere durante gli incontri di mediazione quindi anche queste cose perché non è detto che ci sia un accordo può essere che c'è c'è un accordo però l'amministratore non lo sa se questo accordo sarà ratificato poi dall'assemblea e qui c'è il proseguo di questo articolo il mediatore sono sottoposti e allora quindi l'accordo di conciliazione che sarebbe un accordo in bozza giusto o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze giustamente di quell'articolo 1136 del codice civile in caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa però andiamo oltre perché che cosa questo questo della ratifica da parte dell'assemblea viene anche adesso quindi non è una cosa nuova per me che succede che non è che lì in assemblea una volta bocciato questo accordo la mediazione può morire può essere pure che l'assemblea fa una controproposta in quel caso le parti possono tornare in mediazione e vedere se riescono a limarla queste cose succedono anche adesso questa non è la vera bomba la vera bomba è che l'amministratore può fare tutto senza la delibera assembleare quindi che cosa mi viene in mente che siccome c'è sempre l'assistenza tecnica obbligatoria quindi l'avvocato serve per forza è evidente che l'amministratore dovrà dare un'informativa ai condomini e ci dovrà essere comunque un avvocato nominato dal condominio che stia presso all'amministratore quando decide di iniziare una mediazione aderirvi parteciparvi eccetera quindi questa è la bomba e l'altra bomba è che deve ancora devono essere definiti dal decreto ministeriale dalle modifiche che andranno fatte al decreto ministeriale 180 del 2010 sto andando troppo vado zitta no certo mica sono indenne io è certo no ma ora riassumo faccio proprio un lavoro di sintesi più veloce di così non riesco a parlare allora appunto che succede che la nuova normativa sulla mediazione avrebbe previsto ancora deve essere ben modificato quindi la posso buttare lì comunque l'ingresso diretto in mediazione anche in mediazione in tutti i tipi di mediazione cioè chi sia l'istante che il chiamato quando si siedono davanti all'organismo di mediazione questo sempre a luglio accadrà se non modificano niente sarà già entrato in mediazione quindi questa è la novità ora siccome sarà già entrato in mediazione vuol dire che il momento in cui fai l'istanza o aderisci già maturano le cosiddette indennità di mediazione che fino ad oggi venivano richieste solo in caso di ingresso in mediazione ma la riforma vuole l'ingresso automatico in mediazione per favorire appunto la serietà e l'effettivo svolgimento appunto del procedimento di mediazione tra le parti ovviamente questa questa indennità sarà computata ai fini di un grosso di acconto rispetto all'eventuale seconda parte di indennità ma non vi sto a tediare comunque sappiamo che in mediazione c'è un'indenità per l'ingresso in mediazione e un residuo se si fa l'accordo che succede questa cosa per me è molto importante perché l'amministratore e l'avvocato dovranno informare anche lì l'assemblea che c'è stato un esborso di soldi da parte del condominio quindi a quel punto bisognerà ponderare e mi avviso molto seriamente se continuare con la mediazione e provare a fare l'accordo visto che già degli esborsi sono stati fatti oppure chiuderla lì e proseguire per il giudizio tutta questa parte di diciamo così esborsi economici è stata bilanciata direi strabilanciata dall'aumento del credito d'imposta quindi che finalmente con i soldi del PNNR è entrato in vigore quindi si è passati a 600 euro poi ci sono altri molti crediti d'imposta anche per quanto riguarda che si sommano fino a un certo numero fino a una certa mi pare fino a 600 euro anche per quello da detrarre da quello che è stato il compenso dell'avvocato quindi diciamo che la mediazione sembra che costi di più invece con tutti questi crediti d'imposta dovrebbe venire per la maggior parte dei casi a costo zero finisco perché appunto se no vengo linciata l'altra faccia della mediazione di cui parlerò faccio solo un accenno giusto per buttarvela lì è stata la previsione sempre nel 28 2010 di questo altro articolo cioè la previsione esatta di chi deve ecco articolo 5b se è quello prima procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quindi vale per gli oneri condominali come ho detto prima ma vale per tutte le materie oggetto di decreti ingiuntivi e questo ve lo dico perché è stato reso necessario metterlo all'interno di una normativa per quanto caos c'era in Italia su chi doveva proporre la domanda di mediazione se opposto o opponente e sappiamo che l'errore su chi doveva e chi non doveva ha fatto saltare una marea di decreti ingiuntivi tant'è che è dovuta intervenire la Cassazione con le sezioni unite e avendo dei giudici continuato a dire che gravava sull'opponente è stata codificata ve la leggo e giuro che ho chiuso per un po' non mi vedete più allora articolo 5 bis procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quando l'azione di cui articolo 5 comma 1 è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo quindi tutte le materie dove la mediazione all'inizio non si deve fare nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo attenzione il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 che qui sa tre mesi e più tre mesi anche questa è oggetto della riforma a tale udienza se la mediazione non è stata esperita dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo revoca il decreto opposto e prevede sulle spese ovviamente tutto questo avverrà anche per l'opponente che ha proposto domanda riconvenzionale che diventa oggetto di tutto il pacchetto quindi se nessuno dei due provvede tutti a casa io vi ringrazio spero di avervi tenuto un po' svegli grazie a te grazie a te veramente Maria per la tua ottima relazione siamo arrivati alla fine del convegno ma io ho sempre ritenuto che i convegni per essere interessanti e quindi seguiti debbano oltre che approfondire i vari istituti sotto il profilo dottrinale anche avere un taglio pratico finalizzato proprio a sciogliere i dubbi a risolvere le problematiche di chi ci segue se anche oggi saremo riusciti nel nostro intento credo che avremo conseguito il nostro obiettivo e così almeno non avrete sprecato il vostro tempo grazie per averci seguito grazie agli ottimi relatori e diciamo al prossimo anno ai prossimi convegni arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti